Aspirate le cose del cielo e non al ruolo della terra. Aspirate le cose del cielo e non al ruolo della terra. Aspirate le cose del cielo e non al ruolo della terra. Aspirate le cose del cielo e non al ruolo della terra. Aspirate le cose del cielo e non al ruolo della terra. Aspirate le cose del cielo e non al ruolo della terra. Aspirate le cose del cielo e non al ruolo della terra. Dove si trova Cristo? Dove si trova Cristo? Aspirate le cose del cielo e non al ruolo della terra. Allora anche voi sarete manifestati con lui nella gloria. Se siete risorti con Cristo. Cercare le cose del cielo e non al ruolo della terra. Aspirate le cose del cielo e non al ruolo della terra. Aspirate le cose del cielo e non al ruolo della terra. Aspirate le cose del cielo e non al ruolo della terra.